Benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo nel secondo episodio dei samurai in Forona Iniziamo subito nella seconda missione, sfoltire il greggio Allora, ho detto uno scorso episodio, abbiamo attaccato, abbiamo difeso il nostro popolo Però all'ultimo sono arrivati gli ossigiana e non si sapeva manco il perché, i cavalieri Cioè che ci facevano là al coso, ma mi sa che volevano fare, cioè hanno atturato o Haku, non mi ricordo E praticamente hanno deciso chi mettere il re E quindi ora, le ore, ci hanno detto che ci, ecco, ora dobbiamo combatterci Raga, due suoni, se sentiva un po' di vento poi lo rispengo Raga, due suoni, se sentiva un po' di vento Domanda Minchia, forte Madonna Minchia Ah, questo serve per sfondare lo... Aia che male Cabona Eh, stronzo No No, non mi pare colpì Cioè raga, è fortissimo Curiamoci perché mi sa che ora c'è il primo boss Porca puta Vabbè, ma che pale Ma è una... è una femmina, a me sembra un maschio Cavolo Ma perché? Vabbè Vabbè raga, è forte, è forte Adesso però l'attivo io la vendetta Stronzo Cioè poi i samurai dovrebbero essere antichi Cioè, robe sulla... sul... come si dice Sono più sulla famiglia che combattere in questo modo come fanno... come fanno per il potere dell'imperatore Perché i samurai sarebbero un'antica... come si dice... non tradizione ma popolo Un antico popolo sì che hanno sempre combattuto per il loro onore senza mai farsi... Senza mai farsi... senza fregarsi nel tipo del potere dell'imperatore E questa roba però... cioè... ci sono alcuni che hanno sempre avuto paura dell'imperatore Però però sarebbe... c'è... se sei... di solito non dovrebbero loro combattersi perché sono... Cioè loro non sono fatti per questo gli imperati... si vabbè non muore... e muore... beh madonna... Vabbè dai se c'ho pure... sto qua a combattermi... Fa un culo sto... Perché io ho tolto un botto di vita... Lo... lo ucciso... non ci vedo... Eh vabbè... vabbè... non... non ci vedo... non ci resta qua... non ci resta qua... non ci vedo... Cioè che palle... gli arcieri... in più quegli altri che mi combattono... mi rompono la coglione... e che palle... Da che culo... l'ho ucciso... godo... Io... io per... nel caso ci fosse alcun... a piazzo... sconfiggi tu di Daino... Daino sarebbero... come ha detto... Ah ma questo è l'ultimo Daino? Mi viene da combattere... Che vigliacco... Ma che croccio è? Non stiamo scherz... c'è in due colpi... Devo cercare di ucciderlo prima che arrivi al... Lasciamo questo e che... Ah no aspettate... aspettate... ho una tattica... Vi ricordate che qui avevamo trovato una roba buona... No... qui... 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 eccolo... Va allora possiamo andare con questa roba... noi sappiamo cosa ci facciamo... La usiamo... per... cioè per provare a meno a fargli un agguato... cioè mentre lui va... Va a far la roba... Proviamo a fargli un agguato... L'ho lanciato di merda... Stron... Dov'è l'altro... Scappato... Non ci deve... dai porco 2 minchia fugazze che mi c'alleo con uno che vuole sca sicuro? eh l'amadoi kamadoi l'amadoi porco schifo fancoo stronzo non parlare più va perché dovete venire a combattere che senso ha? ma da sola contro le fazioni o mai altro faceva non parlare più Sembrò un rasco Sembrò un risultato Ora mi metterò ad attaccare Porco dio Sono andato a bere porco dio Ora voglio Ma si pentirà Vabbè ragazzi anche questo Episodio si è concluso Come al sempre Lasciate un like E Mi piace No un like è basta Anche commentate se vi è piaciuto E Iscrivetevi Mi fate un grosso favore E quindi ci vediamo Con un prossimo episodio